Il Consiglio dei Ministri, ormai da qualche giorno in tempo utile prima della pausa di agosto, ha dato il via libera al decreto legge Omnibus che comprende diversi interventi. In primo luogo è istituito un piano economico per le famiglie coinvolte nel crollo delle vele di Scampia. Il Governo ha previsto un contributo mensile fino a quando i 220 nuclei familiari coinvolti nel crollo non troveranno una sistemazione stabile comunque entro il 31 dicembre 2025. E come previsto dal progetto Restart Scampia da consegnare entro il 2026 a chi ne ha diritto ci sono 433 nuovi alloggi, appartamenti che verranno completati grazie ai fondi del PNRR. 3 milioni stanziati dal Governo Meloni nell'ambito del decreto a cui si aggiunge il milione trovato dall'amministrazione Manfredi al bilancio comunale. Aiuti accettati dagli sfollati con la consapevolezza nella vela celeste non si potrà più entrare. Resta da valutare ora la situazione delle altre due vele ancora non abbattute, quella rossa e quella gialla. Per le due strutture entrambe più o meno nello stesso stato della vela celeste a settembre ci saranno le verifiche di staticità. Altissima la probabilità di ulteriori sgomberi, anche definitivi, prima del successivo e necessario abbattimento. Sono 500 le famiglie dei residenti nelle due vele e già ci sono stati i primi contatti tra il sindaco Manfredi e gran parte degli intestatari degli alloggi, che se ne avranno diritto entreranno con i rispettivi nuclei familiari nei nuovi alloggi del progetto Restart. In attesa dei prossimi mesi, con le verifiche dei tecnici che ci saranno a settembre, il dialogo con le famiglie è stato dunque avviato dal primo cittadino. Questo è fondamentale per far sì che l'operazione sgombero venga fatta in serenità e tranquillità. Serata di sangue, quella di sabato scorso a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli, dove Carmine Notturno, pregiudicato di 50 anni, è stato ucciso a colpi di pistola stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine. Notturno, considerato dagli inquirenti vicino al clan d'Amico, si trovava in piazza Giambattista Pacichelli, non molto lontano da Corso San Giovanni a Teduccio, quando sarebbe stato avvicinato da due uomini in scooter con il volto travisato che gli hanno sparato contro diversi colpi d'arma da fuoco. Soccorso, il cinquantenne è stato trasportato all'ospedale del mare dove è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate nell'agguato. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che hanno svolto tutti i rilievi utili a determinare la precisa dinamica dell'omicidio e individuarni i responsabili. Le indagini sono affidate ai poliziotti della squadra mobile della questura di Napoli. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista, ma non è escluso che l'omicidio di Notturno si inserisca in una lotta criminale per il controllo delle attività illecite nella zona orientale del capoluogo campano. I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno intensificato le attività di contrasto al fenomeno dei taxi abusivi nelle zone a più alta vocazione turistica, anche alla luce delle indicazioni fornite dal prefetto di Napoli Michele Di Bari in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Da giugno sono state contestate 46 sanzioni amministrative nei confronti di tassisti per mancata esposizione del tarifario, mancanza del post, allontanamento del conducente dal veicolo, orario di servizio eccedente e limiti previsti, tutte fattispecie sanzionate dal codice della strada. Di queste 15 sanzioni sono state contestate a tassisti e operanti nel porto di Napoli, in prossimità degli scali della stazione marittima, dove peraltro si registra lo sbarco di numerosi turisti stranieri dalle navi da crociera. Nel medesimo contesto i finanzieri del gruppo di Torre Annunziata, Massa Lubrense, hanno contestato a due persone l'esercizio abusivo di noleggio con conducente. A Napoli, nel quartiere Vicaria, un uomo è stato sorpreso in prossimità delle fermate dei bus e dei tram sulla corsia riservata ai mezzi pubblici, mentre procacciava clienti offrendo di accompagnarli a destinazione con la propria auto privata. Nei suoi confronti è scattato il sequestro dell'auto addibito al servizio di taxi, sprovvisto dell'apposita licenza, nonché sanzioni fino a 23.832 euro per una serie di violazioni al codice della strada. Il punto sui roghi che nella giornata di ieri hanno interessato l'area del Parco Nazionale del Vesuvio e più precisamente i territori comunali di Graniano e Piemonte al centro della riunione del centro coordinamento soccorsi convocato nel pomeriggio dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, della soru regionale, dei sindaci, dei comuni interessati. L'incendio sviluppatosi nel comune di Graniano ha interessato un'area boschiva lontana da civili abitazioni e all'ambito anche una zona del vicino comune di Piemonte. La soru regionale, intervenuta con il DOS della comunità montana dei Monti Lattari, ha disposto l'impiego di due elicotteri per lo spegnimento. I vigili del fuoco hanno invece operato con autobut e una squadra speciale. L'incendio, per fortuna, è stato circoscritto. La prefettura, si legge in una nota, continuerà a monitorare l'andamento degli incendi fino a cessate esigenze.